allora questa tartarughina l'ho vista proprio con la coda dell'occhio sono subito tornato in casa a prendere il telefono per fare un bel video e ho anche preso la bilancia per vedere quanto pesa questa tartarughina appena nata fatti un po vedere e che begli occhietti perfettamente cicatrizzata intanto qui ci sono le tue mamme sorelle fratelli papà tutti quanti ma ora andiamo a vedere tu quanto pesa allora accendiamo la bilancia nell'ultimo video abbiamo visto che il peso medio di una tartaruga appena nata è di 10,9 grammi e tu sei 11 grammi quindi diciamo che rispetti perfettamente la media del peso delle altre tartarughe e adesso ti portiamo nel recintino a te dedicato intanto qui devo fare attenzione a queste belle tartarughe che non mi diano un morso ai piedi perché sarebbero assolutamente capaci di farle vi faccio vedere una piccola panoramica al mio orticello con i pomodori buona giornata